Musica Sabato 28 gennaio, nuova edizione settimanale di Quilicata TG, benvenuti. Dalla Florida a Licata per conoscere i luoghi dello sbarco alleato del 10 luglio 1943. E l'esperienza di una coppia statunitense, Diane e Dallan, che grazie a visita a Grigento guidata da Marcello Mira, ieri sono arrivati a Licata. Il sindaco Pinao Galanti li ha accolti al comune. Vediamo. Musica Mi è piaciuto tutto. Il balcone dove stavano il generale Patton e Frank Toscano, che pochi americani vedono. Poi lo sbarco, che è stato importante contro la Normandia, ma molto sottovalutato. Mi è piaciuto veramente tutto. Sono 33 anni nell'esercito degli Stati Uniti e alcuni dei miei migliori amici e colleghi erano qui durante gli sbarchi. Da allora sono morti, ma mi hanno trasmesso la loro storia. Quindi volevo venire a vedere come lo avevano pianificato, dove sono atterrati, sbarcati e che tipo di attrezzatura hanno avuto. Mi è anche piaciuto vedere l'associazione dei veterani di Licata, le mostre che hanno creato. E mi è piaciuto camminare lungo la spiaggia e guardare i veri bunker e installazioni. Mi piace quel tipo di storia. Era tutto qui, è tutto molto interessante. Il Comune da tempo sta lavorando per incrementare le visite degli americani che sono stati presenti nel momento dello sbarco. Noi festeggiamo ogni anno questo evento, però la pubblicità di questo evento non è mai stata sufficiente per incrementare il turismo. Il Comune di Licata fa parte di un gruppo che sta presentando il percorso dello sbarco in tutta la Sicilia. È un gruppo cospicuo che parte dalla provincia di Catania, però è arrivato già qua e sicuramente porterà tanti americani a visitare i luoghi dove sono stati loro antenati. Ora apriamo la pagina dedicata al Covid-19. Crolla per fortuna il numero dei positivi a Licata. Nel giro di pochi giorni ci sono stati ben 40 guariti e nessun nuovo caso. Oggi, secondo quanto annunciato dall'ASPA di Agrigento, il numero dei positivi nella nostra città è pari a 28. Nell'Agrigentino ci sono 378 nuovi positivi a fronte di 3.775 tamponi eseguiti. In 26 sono stati ricoverati in ospedale, ma i guariti sono ben 982. Purtroppo si registrano 5 nuovi decessi. C'è da dire però che questi dati comunicati dall'ASPA di Agrigento si riferiscono a più giorni. Ha dell'ingredibile quanto accaduto al calogero saporito. I ladri, utilizzando uno dei tanti buchi presenti nei muri di cinta, sono penetrati nello stadio del villaggio dei Fiori e hanno rubato di tutto. Stamattina ci siamo andati. Vediamo il servizio. Siamo davanti lo stadio Calogero Saporito, il secondo stadio dedicato dopo il Dino Liotta, il villaggio dei Fiori. E qui si è consumato negli ultimi giorni un gesto gravissimo. In pratica qualcuno è entrato nella struttura sportiva e ha portato via tutto quello che poteva portare. Pensate, i contatori della corrente elettrica, i cavi della corrente elettrica, le porte in ferro che danno accesso agli spogliatoi, gli impianti, le attrezzature sportive, creando difficoltà enormi alle due società che utilizzano l'impianto, il Realicata che ci si allena e la Santa Sofia Licata che disputa le gare giovanili dei ragazzi qui. Un fatto gravissimo che testimonia ancora una volta, ci sentiamo di ribadirlo, l'emergenza criminalità con la quale la nostra città è chiamata a fare i conti. In questo caso, tra l'altro, ciò che è stato portato via non è che chissà quale valore abbia, la sensazione può essere che si voleva proprio danneggiare questi giovani che utilizzano l'impianto per trascorrere il tempo in maniera sana, facendo sport. La cronaca. A Cammarata, i carabinieri della Compagnia Cittadina hanno consegnato alla soprintendenza i beni culturali e archeologici di Agrigento una fontana, risalente al XVIII secolo, che era stata sequestrata nel 2015 a Santo Stefano Quisquina. La confisca della fontana, che è a forma di conchiglia, è divenuta definitiva nel maggio del 2022 ed ora è stata consegnata alla soprintendenza per il restauro e l'esposizione. A Naro, gli agenti della squadra mobile di Agrigento, coordinati dal vicequestore Cesare Castelli e la guardia di finanza, hanno bloccato una corsa clandestina di cavalli. È accaduto stamani, incontrata Cicco Briglio. Al vaglio degli inquirenti c'era posizione di 30 persone. Gli animali sono stati sequestrati e affidati alle cure dei veterinari. Smile and Make Pasta Si chiama così l'iniziativa della chef youtuber aligatese Alessandra Lauria, grazie alla quale saranno raccolti fondi per creare dei laboratori di pasta all'interno del reparto di pediatria oncologica dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. La chef, che nei giorni scorsi è stata anche ospite della trasmissione RAI 1 Mattino in Famiglia, ha presentato l'iniziativa agli studenti della media Gaetano De Pasquali. L'abbiamo intervistata. Vediamo. Il laboratorio si chiama Smile and Make Pasta, quindi Sorridi e Fai la Pasta. È un laboratorio che stiamo portando all'interno del reparto di pediatria oncologica dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. L'idea è quella di formare altre sfogline pastaie che vanno a fare le volontarie all'interno del reparto. Vorremmo anche creare un pasta kit o un videocorso affinché sia i bambini, sia i bambini che vogliono supportare i bambini potranno riceverlo. La campagna sta andando bene, nel senso che dei fondi sono stati già raccolti. Tu parti, lo ricordiamo, dalla tua esperienza personale che inizia da bambina. Esattamente, sì. Infatti ho scelto quel reparto proprio perché ho vissuto lì più di un anno della mia vita e quindi volevo ricreare dei momenti gioiosi, quando gioia ce n'è poca all'interno del reparto dell'ospedale. Vogliamo fare brevissimamente un appello a chi ci sta ascoltando, a collaborare? Certo, io vi chiedo di aiutarmi a far sì che questo progetto possa prendere vita, possa continuare e mi ha aiutato ovviamente a portare, come dico sempre, un sorriso e una speranza a questi bambini ma anche ai ragazzi perché pediatria significa molto più che un bambino. Uno, due, tre, mai e mai, basta! A Palma di Montechiaro la Fiat Multipla di un abbracciante agricolo di 45 anni è stata distrutta dalle fiamme. L'episodio si è verificato di notte in via P3. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di di Cate che hanno spento le fiamme. Indagini dei carabinieri della stazione cittadina. E adesso apriamo la pagina sportiva con il calcio. La sconfitta di Catania è già in archivio. Orelicata pensa alla sfida casalinga di domani con la mariglianese, ultima della classe in serie D. Pippo Romano mette in guardia sulle difficoltà del match. Vediamo le interviste con il tecnico Leonardo Saito ed Emiliano Pino. Ascoltiamoli. Per la tua pubblicità su Qui Licata chiama subito il 320-7550-740. Pupup! Sì, abbiamo queste tre defezioni, Cappello e i due squalificati, Vitolo e Prisenna, però il resto è tutto disponibile e mi aspetto domenica veramente una partita di grande spessore e di grande maturità, perché queste sono le partite più difficili e più insidiosi e dobbiamo essere pronti a arrivarci bene con la testa e con la concentrazione giusta per cercare di arrivare a successo e così mettere dentro la classifica, ancora più punti per arrivare all'obiettivo premissario. No, il gol non mi aspettavo neanche che veniva a Catania, ma è stata una bellissima soddisfazione. Spero ci saranno altre occasioni pure per fare altri gol. Sarà una partita tosta, ci stiamo lavorando molto bene e speriamo che il risultato possa dare i suoi frutti. Con queste ultime interviste chiudiamo l'edizione odierna di Qui Licata Tg, appuntamento rinnovato alla prossima settimana, grazie per l'attenzione e alla prossima.